I temi legati alla situazione in Siria hanno occupato la gran parte dei colloqui a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo francese Ayrault. Lavrov ha accusato gli USA di non avere separato i terroristi dai miliziani della cosiddetta opposizione moderata. Ci rincresce che i nostri colleghi statunitensi abbiano annunciato lo stop o la sospensione del nostro lavoro bilaterale sulla Siria. Siamo al corrente che questa decisione non include i formati multilaterali e per questo siamo pronti a farvi ricorso. Critico Ayrault sui bombardamenti russi in Siria. Questi bombardamenti, queste violenze creano i nuovi jihadisti, gli jihadisti di domani. Bisogna mettere fine al massacro ma anche mettere fine alla spirale che rinforza il terrorismo. Nonostante lo stallo, Lavrov ha confermato che Russia e Siria sono pronte ad eseguire la loro parte negli accordi sull'accesso umanitario ad Aleppo. Al termine degli incontri a Mosca, Ayrault prosegue il tour de force diplomatico con una tappa a Washington.